Buongiorno e benvenuti alla Resegna Stampa, oggi è lunedì 9 dicembre 2019 e questa è Fano TV sul canale 17 c'è l'informazione in diretta di prima mattina subito con le previsioni del tempo, i giornali ma ancora prima il santo del giorno perché oggi ricordiamo un santo che è San Joan Diego che probabilmente molti non conosceranno però se dico santuario di Guadalupe molto probabilmente invece già le cose cominciano ad essere più chiare. E' un santo che nel dicembre del 1531, un indigeno che da poco si era convertito e battezzato mentre andava a lezioni di catechismo passando vicino ad una collina non lontana da città del Messico ha sentito un cinguettio di uccelli gioioso e così si è avvicinato. Però a un certo punto ha sentito una voce che lo chiamava per nome, era niente meno che la Madonna che lo invitava a ricarsi dal vescovo per chiedergli di costruire un tempio dove si possa mostrare tutto, dice la Madonna, il mio amore. E così dopo varie vicissitudini all'inizio il vescovo non ci ha creduto poi alla fine insomma gli mostra un telo e da lì il famoso telo eccetera, da lì poi è nato il santuario e tutto quanto e questa è la ricorrenza. Il sole sorgerà alle 7.28, tramonterà alle 16.31. Per quanto riguarda il tempo avremo una nuova perturbazione in transito all'inizio di questa settimana, maltempo anche al centro-sud, un fronte freddo tra mercoledì e giovedì, anche rischio neve a quote basse soprattutto al nord, mentre la protezione civile delle Marche per la mattinata prevede un cielo inizialmente nuvoloso con annuvolamenti più intensi nei settori interni della regione Marche, poi dalle ore centrali della giornata aumenterà la nuvolosità su tutta la regione. Al pomeriggio avremo precipitazioni sparse oggi in progressivo transito da nord verso sud, le precipitazioni potranno assumere carattere di rovescio in particolare verso la sera. Le temperature però sono in ulteriore aumento, avremo infatti venti meridionali di brezza leggera al mattino con raffiche sui settori interni fino a Burrasca, mentre nel pomeriggio avremo vento forte lungo la fascia costiera. Domani arriva la pioggia su tutta la costa, ma attenzione vedete il simbolo delle nevicate già nell'entroterra, con limite intorno ai mille metri ma in calo. Nevicherà sui Sibillini così come pioggia mista deve anche sul Carpegna, sul Catria e sul Nerone. Le temperature minime sono senza variazioni di rilievo. La giornata di mercoledì sarà caratterizzata, secondo il bollettino della protezione civile delle Marche, da condizioni di stabilità, dunque un possibile nuovo temporaneo contenuto peggioramento a partire da giovedì. Ieri la Regione Marche in particolare, ma soprattutto Fano, Senigallia, hanno ricordato le vittime della tragedia di Corinaldo, con delle cerimonie sia religiose che civili. Di questo si parla oltre alle pagine sportive del lunedì. Corriere Adriatico, edizione di Pesaro, l'abbraccio di Fano per Benni, in piazza candele ed emozioni, danza degli angeli per ricordare la strage di Corinaldo, il dolore del fratello, il fratello di Benni, Francesco. Lo sport a centropagina è già un'altra VL, Simone Zanotti nella fotografia e in azione durante la sfortunata partita, che è stata persa di misura, però contro l'Armani di Milano, 65 a 71. Però la partita, rispetto a quelle che i tifosi erano abituati a vedere dall'inizio del campionato, la VL, lo ricordiamo, non ha mai vinto, però si è vista in qualche modo ieri la mano di sacco, il nuovo allenatore, il nuovo coach. Mentre la Lube, parliamo qui di pallavolo, show perché è campione del mondo, ce l'ha fatta in Brasile battendo 3 a 1 il Sada Cruzeiro, dunque Lube che ha conquistato il titolo mondiale per club, l'unico che mancava alla sua ricchissima bacheca. Grandi protagonisti, coach De Giorgi, l'allenatore e Juan Toregna. Sotto invece, sempre in prima pagina sul Corriere, Rinascimento e Natale, Urbino cattura i turisti, folla record in piazza per l'accensione dell'albero, De Crescentini annuncia un docufilm della RAI su Raffaello. Il Carlino di Pesaro, Santa Veneranda, protesta riuscita, residenti in strada per reclamare la circonvalazione, traffico rallentato, faremo il bis, dicono loro, forse già domenica prossima. A centro pagina invece la piazza di Fano, piazza 20 Settembre, gremita per l'omaggio alla ragazzina morta a Corinaldo. 2.000 luci per Benedetta, laceranti le parole del fratello Francesco che ha detto ogni giorno è una lotta per andare avanti. Il sindaco Massimo Seri non è stata una fatalità, ha detto alla lanterna azzurra, erano in troppie. Sotto lo sport, Sacco non fa il miracolo, Mirano piega la VL, mentre al Benelli, un solido Carpi, suona la sesta, domata la VIS. Ancona, fotonotizia per la cerimonia religiosa, sempre riguardo la strage di Corinaldo a Senigallia, con di spalle vedete il vescovo Manenti, dolore e carezze, il vescovo mentre abbraccia la piccola Gemma, che è la bambina che ha perso la mamma in quella tragica notte di un anno fa. E poi la cronaca, con il titolo, seduto sui binari, filmato dagli amici a Senigallia, alcuni passanti hanno dato l'allarme sul posto, sono arrivati i carabinieri, è stato identificato un diciottenne. Nuovo viso invece a macerata per la ragazza sfigurata, dopo un incidente un chirurgo, il chirurgo Messi, gli ha ricostruito il cranio, ora sta bene, così le abbiamo ridato il volto. Mentre a centropagina i tifosi, una parte dei tifosi che ieri all'Eurosuole Forum di Civitanova Marche hanno assistito in diretta all'incontro dal Brasile, dove appunto la squadra di Civitanova ha vinto, dopo lo scudetto e la Champions, anche il titolo mondiale per club. Arriva il primo titolo iridato, patronna Giulianelli della Lube dice ancora non riesco a crederci, ora non ci resta che vincere. Apriamo adesso le due pagine del Corriere Adriatico che raccontano questi momenti emozionanti vissuti ieri pomeriggio dalle 19 in piazza 20 Settembre per il ricordo, il ricordo per Benedetta con la Danza degli Angeli. La città si è stretta intorno alla famiglia di Benni, gruppo, scusate in gola, per le parole del fratello Francesco che ha ricordato l'emozione della ragazza per la serata speciale che la attendeva prima di guardare in faccia l'orrore. e ha ringraziato praticamente tutti. Nel buio si sono accese centinaia di candele per non dimenticare. Alcune fotografie, alcuni momenti, la tenerezza, la memoria, le parole delle amiche che hanno commosso la piazza così come la voce rotta di Francesco che ha ringraziato tutti, accanto a lui anche il sindaco, per entrambi la voce rotta e un'infinita commozione. Poi un gesto d'affetto dell'intera città per la famiglia Vitali e poi vestiti di bianco come il candore dei suoi 15 anni, la danza degli angeli, gli angeli bianchi per ricordare la giovinezza di Benni, i suoi sogni, il suo candore che dal cielo indica la strada a chi le ha voluto e le vuole ancora bene. In questa ricorrenza che, come dicevo, ieri si è tenuta in diverse località, in diverse città, Fano, Senigallia ovviamente in primis, non ci sono stati nei ministri, nei sottosegretari, soltanto il prefetto di Ancona, Antonio D'Acunto, ha partecipato al convegno, ad un convegno, per il resto non si sono visti i politici. La preghiera invece questa sera alle ore 21 a Marotta, a San Giovanni, nella parrocchia della chiesa di San Giovanni perché c'è la comunità che si stringerà in preghiera in ricordo della quattordicenne Asia Nasoni e delle altre vittime di Corinaldo. Un momento di riflessione alla quale parteciperà anche il sindaco di Mondolfo, Nicola Barbieri. Questa invece è l'altra pagina che riguarda questo ricordo, siamo sul resto del Carlino, il titolo, la piazza, lo strazio e i palloncini in 2000 per ricordare Benedetta, Fano si stringe la famiglia Vitale, la danza delle amiche, il buio e le candele, fino alla struggente canzone. Quella sera ricorda Francesco, dovevamo montare quello splendido albero di Natale scelto da te, ti avrei svegliato la mattina per farlo insieme. Poi ancora grazie Benni per avermi fatto capire quali sono i veri valori della vita e il significato delle parole per sempre. E questa è invece la pagina di Senigallia con le immagini, le immagini sopra della cerimonia religiosa dove il vescovo, come dicevamo di Senigallia Manenti, si è avvicinato ai parenti delle vittime e li ha confortati. Una carezza anche per Gemma che nella strage della Lanterna Azzurra ha perso mamma Eleonora e poi parole di confort per Giuseppe Orlandi, il papà di Mattia, Donatella Magagnini, la mamma di Daniele, ma ci sono state parole e abbracci anche per tutti gli altri genitori presenti. Una cerimonia toccante e silenziosa dove ad accompagnare i feretri nel rito della comunione è stata la colonna sonora del film Mission di Ennio Morricone. Mentre sotto le migliaia di luci accese in piazza, una serata anche qui straziante, ci batte forte il cuore, una piazza silenziosa in lacrime davanti al filmato di Lorenzo Cicconi Massi. I messaggi anche dei VIP, le rose dei giocatori della Vigor Senigallia, dicevamo delle persone, i personaggi come Cristian De Sica, Saturnino, Alessandro Preziosi, Maria Grazia Cucinotta, Luca Barbareschi, Michelle, insomma tanti hanno voluto dire due parole per ricordare questa tragedia. E questo è il Carlino, il resto del Carlino di Senigallia. Andiamo invece sul Carlino di Ancona perché ieri è stato aperto l'anno giubilare di Loreto, il segretario di Stato Paroline che ha aperto la Porta Santa, siamo nel luogo migliore per questa festa, ieri l'Immacolata Concezione, in piazza migliaia di fedeli da tutta Italia, ora attendono in molti la visita di Papa Francesco. Papa Francesco che ha concesso al Santuario di Loreto, unica chiesa giubilare del mondo in questo anno, appunto ha concesso l'anno giubilare in occasione del centenario della proclamazione della Madonna di Loreto patrona degli aeronauti. Oggi ci sono ancora delle iniziative come per esempio stamattina dall'aeroporto Sanzio di Falconara ci sarà un'esibizione di paracadutisti, poi tre statue della Madonna di Loreto partiranno per una peregrinazio Maria, negli aeroporti civili e militari d'Italia, poi tante altre iniziative alle 5 del pomeriggio, per esempio anche l'accensione del fuoco in attesa della venuta della Santa Casa Loreto, alle 19 ci saranno i vesperi in Basilica, alle 21 sempre nel Santuario il Rosario, la Santa Messa presieduta da Monsignor Fabio Dalcin e la processione in piazza della Madonna con la statua della Vergine Lauretana. Domani è la festa della Beata Vergine Maria di Loreto, tra l'altro, e per l'occasione alle 10 c'è una celebrazione presieduta da Monsignore Emil Paul, annunzio apostolico in Italia. Tra l'altro vi ricordo che questa mattina ci hanno mandato una e-mail proprio stanotte dal Santuario, questa mattina alle 7.30 la messa in diretta dalla Santa Casa di Loreto non ci sarà per problemi tecnici. Probabilmente stanno allestendo le dirette per la giornata di oggi. Andiamo a Senigallia, restiamo a Senigallia. Due ragazzi seduti sui binari, gli amici filmano l'impresa, folle sfida alla stazione ripresa con lo smartphone, erano ubriachi, sono stati salvati dai tassisti. La giornata delle Marche che si terrà domani alle 17 al Teatro Rossini di Pesaro. Premi a Mariotti e Scavolini, ingresso con prenotazione, il picchio d'oro assegnato al tenore Andrea Bocelli che però domani non ci sarà, non sarà presente. Guardate questa fotografia a destra, lo cerchiamo, a destra questo cittadino che oggi è italiano, da poco cittadino italiano anche se è qui da tanto tempo, o meglio a Cagli da molto tempo, si chiama Johnny Ramadan, ma chiamato da tutti effettuosamente Johnny, ha ottenuto la cittadinanza italiana. Fa il muratore, è un albanese molto conosciuto a Cagli come gran lavoratore e come tutti appunto chiamano affettuosamente Johnny, residente in Italia ormai da un quinquennio, era salito agli onori delle cronache quando lo scorso aprile aveva salvato da morte certa un pensionato cagliese il quale in un momento di sconforto aveva tentato il suicidio gettandosi da un ponte. Lui l'ha visto mentre andava con la bicicletta, ha buttato la bicicletta, l'ha afferrato, insomma è stata dura, tant'è che all'uomo che gli urlava di lasciarlo cadere, sapete cosa gli ha detto Johnny? Gli ha detto senti, o ci salviamo tutti e due o moriamo tutti e due. A quel punto l'ha guantato ancora di più e l'ha tirato su e grazie anche a quel gesto ha ottenuto la cittadinanza italiana. Di spalla, l'altra notizia invece che arriva da Marotta, un 83enne che si è lanciato nel vuoto dopo aver aperto la finestra, si è lasciato cadere, è caduto giù, si è tolto la vita in Via Nievo ed è morto. Un volo di tre metri e mezzo, la tragedia è stata scoperta poco dopo le 9 di ieri mattina dalla moglie dell'anziano che ha trovato questo corpo esanime del riverso a terra nel cortiletto dell'abitazione a Marotta. La pagina di fama del Corriere è nella città dei bambini che cantano, il Natale illumina anche i quartieri, esibizioni di alunni e genitori in Via dei Ciliegi, palloncini a Centinarola, alberi accesi a Tombaccia e a Bellocchi. Mentre sempre dalla pagina di fama del Corriere, rischio polveri sottili, confermata la zona blu, ordinanza comunale per i veicoli inquinanti e le attività produttive. I residenti di Santa Veneranda bloccano l'arco, presto faremo anche il bis, la protesta per la circonvalazione che ha creato qualche problema al traffico. Dopo mezz'ora la polizia ha imposto però lo stop, ma il quartiere non si dà per vinto e i residenti annunciano già probabilmente domenica prossima un'altra manifestazione, probabilmente un altro blocco. Così il Corriere, Santa Veneranda scende in strada, aspettiamo da 50 anni, ora basta una manifestazione ordinata, nonostante l'esasperazione dei residenti, toglieteci che chiedono di togliergli il traffico pesante. La circonvalazione era già prevista molto prima delle opere accessorie, schiaratura replica Ricci, sono infastidito, Nobili chiede di svincolare l'opera della terza corsia. Altri momenti, un altro degli striscioni esposti ieri a Santa Veneranda. Mentre il Miralfiore è stato setacciato di nuovo, ma nonostante la presenza massiccia, continua, persistente della polizia, delle forze dell'ordine, continuano gli spacciatori a fare il loro comodo. Ieri comunque, in questi giorni, sono state verificate oltre 100 automobili e identificate 300 persone. Da Vallefoglia, Talacchio fa rivivere Betlemme. Inaugurata ieri la quarta edizione del Presepe di Stato è fatta a mano a grandezza umana. Gli allestimenti nel borgo sono visibili gratuitamente, la sua storia ora è diventata anche un libro. Natale e Raffaello Urbino si accende, la folla in piazza aspettando le televisioni nazionali per i documentari. Riconoscimento e White Christmas, emozioni doppie per turisti e residenti con la regia di De Crescentini. Lavagne interattive invece a Mondolfo e portatili alle scuole, regali della Giunta con il taglio indennità, strumentazioni innovative, consegnate agli istituti comprensivi Fadi Bruno ed Enrico Fermi. Mentre daiesi, erboristerie, giocattoli e bar, tasse scontate per 15 negozi, contributi comunali per incentivare le nuove aperture in centro e nei borghi storici. Osimo, la Porta Santa apre la strada, è l'anno del Giubileo lauretano. A 100 anni dalla proclamazione della Madonna di Loreto, patrona degli aviatori, le indulgenze del Papa. Vedete l'apertura della Porta Santa, unica porta al mondo, quindi insomma ce l'abbiamo vicino casa per noi che siamo marchigiani, è una bella opportunità. Andiamo a vedere lo sport velocemente, prima di chiudere la rassegna stampa, Lube sul tetto del mondo, a Betim 3-1 in finale, al Sada Cruzeiro nel Mondiale per Club, era l'ultimo trofeo che mancava nella bacheca bianco-rossa. Vedete la festa dei giocatori della Lube che ha vinto per 3-1, mentre il Fano, il Fano che ha vinto a Cesena 4-0, non ieri, ma nell'anticipo il Fano ora si gode l'impresa, in attacco può tornare Gucci, dal rotondo 4-0 nella notte magica di Cesena, le voci di mercato, nel Cattino c'è il centro avanti toscano. In ottica salvezza sarà fondamentale sbloccarsi al Mancini contro la Virtus Verona che il Fano incontrerà nel prossimo incontro. Mentre è andata male per la Vis Pesaro in casa al Benelli, ha perso contro il Carpi, la Vis scivola ancora, battuta al Benelli, dicevo, dal Carpi, fatale l'incornata di Maurizia al quarantunesimo minuto, è la decima sconfitta in campionato, Pugioni debutta in porta, ma intanto il vantaggio sulla zona play-out si riduce ad appena due punti. Questa intanto è la classifica, possiamo vederla velocemente insieme mettendola a pieno schermo dove potete vedere il Fano qua sotto, penultima con 13 punti, soltanto avanti al Rimini che è fanalino di coda, mentre va un po' meglio per la Vis Pesaro che di punti ne ha 18, siamo lì anche se, come dicevo, il Fano domenica nel prossimo turno del 15 di dicembre incontrerà alle ore 17.30 la Virtus Verona che si trova a metà classifica, vedete, a 24 punti. Questa era l'ultima pagina, però c'è ancora tempo, qualche minuto, per coloro che si sono messi in ascolto soltanto adesso sul canale 17 di Fano TV per rivedere velocemente la prima pagina dei quotidiani. Allora, il Corriere Adriatico che apre con l'abbraccio di Fano per Benni, in piazza candele d'emozioni, danza degli angeli per ricordare la strage di Corinaldo. E poi la pagina invece di Pesaro, del resto del Carlino, anche qui 2000 luci per Benedetta, in piazza all'omaggio alla ragazzina morta Corinaldo, laceranti le parole del fratello Francesco, ogni giorno dice è una lotta per andare avanti. Il sindaco Massimo Seri non è stata una fatalità, la lanterna azzurra, erano in troppi. E anche il Carlino di Senigallia dedica la fotonotizia alla celebrazione religiosa, alla Santa Messe che si è tenuta in Cattedrale Senigallia, dove il Vescovo Manenti, in questa fotografia, dà una carezza alla piccola Gemma, la bimba che ha perso la mamma, quella tragica notte di un anno fa. Noi ci fermiamo qui, è tutto per la rassegna stampa, vi ricordo alle 18.30 l'appuntamento in diretta con i bambini e Babbo Natale, che anche oggi sarà nel suo studio per parlare e parlare al telefono con i bambini di tutta la Regione Marche, che vorranno sintonizzarsi oggi alle 18.30 sul nostro canale. E poi questa sera, dopo il telegiornale delle 20.30, subito intorno alle 20.50, un'altra diretta con il sindaco di Fano, Massimo Seri, perché questa sera, essendo 1D, c'è Primo Cittadino. Tra l'altro credo che sia l'ultima puntata, perché poi dopo ci sarà la pausa natalizia e riprenderemo all'anno nuovo, quindi Primo Cittadino con Massimo Seri alle 20.45, 20.50. Io mi fermo qui, grazie per essere stati con noi, vi auguro una buona giornata a tutti. Grazie.